E' un Toyota GT86, versione First Edition, anno 2012, venduta solo online in 86 esemplari. Di motore monta un aspirato Boxer Subaru di 2.000 cc e a 200 cv di serie. Abbiamo un cambio AISI in 6 marce. Questa versione in particolare è pregiata perché è full optional, monta a fare lo Xeno, un colore solo per questa versione che è il rosso, e in più abbiamo una targhetta numerata che dice il numero del modello. Lo spazio dall'interno non è molto stretto, ovvero è una macchina che puoi usare benissimo tutti i giorni, è un 2 più 2, dietro il bagagliaio non manca, si può benissimo caritare anche qualche sacco della spesa, ma per accendere ha il suo tasto start and stop. ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.